Francesco, vittoria fondamentale, siete stati squadra, sei stato anche protagonista sull'autogol, quanto avete aspettato questi tre punti? Sicuramente lavoravamo da tanto per questi tre punti, erano più di un mese e mezzo che cercavamo la vittoria e non la trovavamo, però sapevamo che solo con il lavoro e tanto lavoro trovavamo la vittoria e comunque piano piano da questi pareggi, come sono venuti fuori in queste partite, avevamo visto i miglioramenti ed ecco qui la vittoria che è arrivata e siamo veramente tutti contenti e da qui dobbiamo ripartire per le prossime partite. Statistiche dicono che le vittorie dell'Ascoli quest'anno arrivano quando non subite gol, quant'è fondamentale tenere il pacchetto difensivo sul pezzo e cercare di tenere inviolata la porta di Livieri perché altrimenti i partiti non si vincono? Esatto, sicuramente non è facile, però è vero, quando mantieni la porta inviolata, soprattutto in questa categoria, è più facile vincere e questo sarà il nostro obiettivo ovviamente anche nelle prossime partite, cercare di mantenere la porta inviolata per facilitare comunque le vittorie. Il mister ha detto che l'azione dell'autogol è stata provata in allenamento, ce la puoi raccontare? Perché Tremolata è stato protagonista di un grande lancio, ma tu comunque eri nel posto giusto al momento giusto. Sì, è vero, l'abbiamo provata varie volte in allenamento perché è un'azione provata dove Marzura va dentro il campo e io mi allargo e poi è nato da un grandissimo lancio di Tremolata dove poi ho stoppato, ho messo la palla in mezzo e diciamo che c'è stato un autogol. Abbiamo ammirato Francesco tanti anni in primavera come quinto, spingi tanto, hai anche confidenza col gol. Il mister ti sta aiutando a crescere anche come quarto di difesa, terzino sinistro puro, nelle ultime uscite stai migliorando anche in fase difensiva. È questo per te un bel esame per cercare di diventare un giocatore ancora più completo in Serie C? Sicuramente il mister da quando è arrivato mi ha aiutato tantissimo, soprattutto in fase difensiva perché avevo qualche lacuna da migliorare e da lì mi ha aiutato, mi ha corretto da subito e sicuramente fare il quarto o il quinto a me cambia poco, però è un bel esame per il futuro, per andare avanti. Vediamo. A fine partita non siete andati proprio sotto la curva nord, come mai c'è qualcosa che va dato fastidio? No, assolutamente, assolutamente. Adesso la squadra deve pensare solo a vincere e dobbiamo ripartire da qui per le prossime partite, quindi adesso stiamo solo cercando un attimo di riprenderci tra di noi comunque perché non era facile questo momento e piano piano arriveranno anche altre vittorie. L'obiettivo al momento rimane cercare di tirarsi fuori il prima possibile dai bassi fondi della classifica perché comunque quinto risultato utile consecutivo è uno score non da sottovalutare, soprattutto per come sarà messo il campionato dell'Ascola. Sì, l'ho detto che comunque non ci poniamo limiti perché è da settimane che stiamo lavorando e raccogliamo punti. Sicuramente gli altri erano pareggi, magari contano di meno, però sono cinque risultati utili consecutivi, con questa raggiunge anche una vittoria e piano piano arriveranno altre vittorie e cercheremo di andare più avanti possibile. Un bel banco di prova sarà a Sassari contro una Torres molto arrabbiata dopo due sconfitte di fila. Sicuramente, andremo lì per giocare una bella partita, vediamo come si svolgerà.